Abbiamo presentato un progetto esecutivo della scuola materna a Cucurano Carrara e il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, ci ha premiati con un finanziamento di 2 milioni e 100 mila euro. Siamo arrivati in graduatoria al 27esimo posto su un elenco di 58 comuni, quindi questo è un ottimo risultato per la nostra città. La scuola di Cucurano Carrara è già stata finanziata dal comune di Fano e quindi questi soldi che arriveranno spero in brevissimo tempo ci permetteranno di risparmiare sui nostri bilanci 2 milioni e 100 mila euro. Il progetto esecutivo è già pronto, quindi tempistiche ancora da valutare, però siamo a brevi tempi. Sì, tempistiche ancora non sicure perché il progetto esecutivo è stato approvato, però ci sono tantissime variabili. Dobbiamo iniziare adesso con la gara per iniziare i lavori, quindi non è un tempo lunghissimo, però ancora non possiamo dire le tempistiche.